Intro Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua con la nuova puntata di Epic Week Oggi abbiamo un bel giocone, ve lo mostrerò alla fine, e non è su Epic Quindi rimanete qui fino alla fine del video per scoprire quale il gioco è Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi sempre al canale e lasciate un like sotto al video E comunque fatemi sapere se questi giochi vi piacciono, che cosa ne pensate Partiamo come sempre da Epic Games che anche questa settimana ci regala ben due giochi Allora il primo è Filament che praticamente è un gioco di esplorazione e enigmi da risolvere Praticamente, questi saranno gli enigmi da risolvere In più c'è una pseudo storia, insomma bisogna scoprire cosa è successo su questa astronave Credo che siamo rimasti da soli e quindi bisognerà scoprire che cosa è successo E per scoprirlo bisogna sbloccare delle zone e per sbloccarle bisogna risolvere questi puzzle Più che enigmi Basati su questi fili, insomma bisogna concatenare questi pilastri con dei fili E a quanto ho capito, riuscire a farlo bene comporta lo sbloccamento di una porta Comunque di una sezione dell'astronave Il gioco purtroppo non è in italiano Come per la maggior parte diciamo dei giochi Sì non c'è l'italiano Essendoci una storia comunque a me mi pesa parecchio Diciamo il fatto che non ci sia l'italiano Però diciamo che il gioco, la trama diciamo è più per portarvi a risolvere gli enigmi Cioè per arrivare ad alcune stanze che peraltro Comunque credo ci sia una trama quindi è un peccato che non sia stato tradotto Diciamo un voto 6 per amante di puzzle game Passiamo al secondo gioco Il secondo gioco è Rising Storm 2 Vietnam Un gioco diciamo tra virgolette simile a Battlefield Si giocano partite multigiocatori quindi non c'è, non credo ci sia la storia Diciamo il single player Si gioca soltanto in multiplayer Ci sono oltre 20 mappe Si possono scegliere eserciti degli Stati Uniti Del Vietnam, dell'esercito popolare del Vietnam In Vietcong Forze australiane e forze dell'esercito della Repubblica del Vietnam Ci sono 50 armi, 40 elicotteri, mini, trappole Insomma un po' di tutto per tutti i gusti Per massacrare il nemico Insomma Il gioco purtroppo è grafica a parte che sicuramente non è molto attuale Anche se non vecchissima Il gioco è del 2017 Quindi non so se attualmente sui server si trovi parecchia gente Il fatto che lo regalino comunque può portare diciamo in questo periodo Ad un incremento diciamo dei giocatori Quindi sfruttatelo se vi va in questi giorni Finché dura questa Credo Chiamiamola ondata di giocatori nuovi Che vanno a provare il gioco per la prima volta Che poi comunque il gioco Diciamo in sé Senza giocarlo non saprei Però Non mi sembra malissimo Insomma Farci qualche partita con gli amici magari Può risultare anche divertente Il gioco non credo sia tradotto in italiano Ma veramente a questo non credo serva alla fine Perché non essendoci una trama per il single player Diciamo Non ha bisogno diciamo di alcuna traduzione Alla fine serve soltanto per l'interfaccia E per niente di eccezionale la lingua Quindi poteva essere anche in russo Ma non sarebbe cambiato niente Vabbè Passiamo finalmente Al piatto forte della giornata Il giocone della settimana è Warhammer Vermitide 2 Ragazzi questo però lo potrete riscattare Cioè rimarrà vostro per sempre Quello sì Ma lo dovete riscattare Entro il 7 novembre Dopodiché tornerà a pagamento Quindi poi chi lo vorrà comprare Lo dovrà prendere a pagamento Allora che cos'è Warhammer Vermitide 2? Non so se lo conoscete Penso sia abbastanza famoso Cioè almeno io lo conosco Mi sento di dire anche che è un Diciamo un giocone Mi direi anche di sì Insomma È una specie di Per spiegarvi un attimo Di che cosa si tratta Left 4 Dead Cioè si gioca in cooperativa Con altre 3 persone Cioè in totale 4 persone Si fanno diciamo queste mappe Dove ci si scontra con ondate di nemici Però è tutto incentrato Su personaggi fantasy Quindi c'è il guerriero C'è il nano C'è l'arciere Insomma la maga Non lo so Roba così insomma Non è come le 4 dead Che si incontravano gli zombie Qua si vanno a incontrare orchi Diciamo mostri di ogni genere Su un'ambientazione come vedete Abbastanza diciamo Medievale fantasy Quindi bisogna scegliere Scegliere il proprio personaggio E giocare insieme ad altri Non credo ci sia il single player No no c'è anche il single player Quindi potete giocare come Si anche come in Left 4 Dead Si poteva giocare da soli Aiutati dall'intelligenza artificiale E quindi giocare comunque in cooperativa Con gli altri 3 Che però sono comandati dal computer Vabbè l'ideale sarebbe giocare Con gli amici Perché ovviamente Quando si gioca con gli amici A questi titoli Ci si diverte 100 volte di più Giocarli da soli col computer Non ha molto senso Secondo me E questi sono Questo era il giocone Della settimana Perché raga Secondo me è un bel gioco Non è manco tanto vecchio Perché è del 2018 Recensioni molto positive Quindi raga Bellissimo gioco Affrettatevi ripeto Potete riscattarlo Potete riscattarlo Fino al 7 Dopodiché tornerà a pagamento Quindi muovetevi Andatelo a cercare E mettetelo almeno in libreria Non c'è bisogno di scaricarlo Basterà metterlo in libreria Ok Noi ci fermiamo qua Mi raccomando come sempre Iscrivetevi al canale Lasciate un like Qui sotto Se vi va E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao